Buongiorno a tutti e benvenuti al diario del venerdì dalla nostra sola fitticale da Angelo Camilleri Addis, il vostro mister affitti Brianza. Se siete degli studenti universitari probabilmente avrete già dovuto affrontare e superare l'esame di ammissione alla facoltà prescelta e ad oggi vi trovate nella condizione di dover cercare un alloggio per vivere con serenità il percorso di formazione universitario. Vi sarete quindi facilmente risi conto che trovare un alloggio in una zona dove è presente la sede universitaria non è per niente semplice per le condizioni proposte sia da un punto di vista economico sia da un punto di vista di condizioni dell'abitazione infatti molto spesso si parla di condivisione dell'immobile insieme ad altri studenti universitari quindi attraverso l'affitto di stanze o posti letto. Se la sede dell'università che avete scelto si trova a Milano vi posso consigliare la zona di Desio per la scelta dell'alloggio perché è presente la stazione che con pochi minuti di treno vi può condurre direttamente alla sede universitaria che avete scelto oppure alla metropolitana che vi conduce direttamente alle sedi principali universitari milanesi. In questo caso tra l'altro avrete la possibilità di scegliere tra numerose disponibilità presenti a condizioni economiche uguali o addirittura migliori con la differenza di avere un'abitazione completamente a vostra disposizione non in condivisione con tutti i comfort necessari. In questo caso infatti vi invito a visitare il nostro sito diretto www.desio.soroaffitti.it per cercare l'alloggio ideale oppure potete chiamarci direttamente nelle nostre sedi attraverso il numero 0362 30 20 17 e parlare con i nostri collaboratori. Io per il momento vi saluto vi ringrazio e vi auguro un fantastico weekend ci vediamo lunedì con il saluto del lunedì. Ciao a tutti